Indubbiamente il momento non è semplice, indubbiamente crediamo nel lavoro che è stato fatto e continueremo a crederci. Quindi ribadisco che se il tifoso ha nella testa la sacrosanta verità e cioè che l'unica cosa che conta è la società e la maglia, a prescindere da chi in quel momento per la società lavora e chi con la maglia indossa, deve trattare e deve ragionare come un proprietario di qualcosa che deve salvaguardare il suo bene e come si fa a ragionare in questo modo? Cercando di essere positivisti al massimo e soprattutto di aiutare. Se considerate questa azienda vostra, se considerate questa maglia vostra, tutelatela anche tutelando chi in questo momento la sta indossando o anche se all'apparenza non ce la sta mettendo tutta, perché se non ce la sta mettendo tutta non è un problema di volontà, ma eventualmente è un problema relativo a tante altre cose che in elenco sono una modificazione importante e sostanziale di modulo e mentalità calcistica. L'arrivare a fare questo comporta un processo che non può essere brevissimo, dove va a migliorare il processo e a restringere i tempi quando anche il risultato, comunque anche se non lo meriti, ti dà supporto. Questo in questo momento non sta avvenendo.